quella buonasera oggi tl thai a terry vediamo un po cosa succede è già fotografia cioè parliamo già roba internazionale infatti in inglese dai fotografia micidiale come sempre 3 cil rispetto a la precedente no parte parte un drop 3 sicuro da radio però ci sta vabbè tutta roba di brand e tutto cambio di riprese tutto ok sembrava banale all'inizio invece ora cambia buono onda strofa calma per ritornello che sta andando leggermente più ando su di nuovo drop senza nessuna variante però bello bello ci sta ci sta questa ripresa rispetto a prima questa fotografia bianco e nero molto meglio rispetto alle riprese precedenti secondo me adesso un contrasto tra bianco e nero tutte le varie riprese bello bello come si è il rimane comunque sia il rispetto come variante e adesso di parte beh sì sì c'è stata una piccola variante effetti questi un po particolari dai bello 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 ci sta approvata canzone da radio chill dai dai ci posta ci postare a prove da cesta bella bello a bello bello bello